All'Aquila istituzioni a confronto per mettere in campo azioni tutto l'anno contro la violenza di genere. Alberto Orsini. È vero quindi che la scrada sicuramente è tanta che è stata fatta nel nostro paese, nel nostro ordinamento dal punto di vista delle leggi e anche sotto il profilo della diffusione della cultura della parità. Però il raggiungimento vero, effettivo per quanto riguarda i diritti e le opportunità delle donne è ancora molto lunga. Ci sono donne al vertice del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione ma c'è ancora molto da fare. Il Comune dell'Aquila punta a un lavoro che duri 365 giorni all'anno. Provando a lavorare nelle pari opportunità dialogando con tutti gli anticittadini. Il convegno di oggi lo dimostra, lo dimostra il dialogo importante con l'Università, il tentativo, il protocollo che stiamo provando a redigere di maggior vicinanza ai centri antiviolenza. Il gioco di squadra tra istituzioni in una città, il capoluogo, che ha visto approvare all'unanimità un ordine del giorno in Consiglio Comunale contro la violenza di genere. Il contrasto vero alla violenza di genere si può realizzare attraverso la formazione di una rete e l'autorità giudiziaria è un anello di questa catena, un anello importante ma accanto all'autorità giudiziaria è necessario che vi siano organizzazioni e strutture di sostegno. All'Aquila abbiamo concluso il 2022 con un numero di donne accolte che è arrivato a 47. Questo significa che è un dato costante perché di anno in anno noi ci attestiamo tra le 47, le 52, 53 donne accolte che si sommano a quelle che già svolgono percorsi. Abbiamo la casa rifugio occupata e abbiamo un continuo accesso di donne.